Lui è benedetto da Marcello 10 2 metri Qui c'è una sportella di spezzano Quattro 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 5 5 6 8 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 19 20 ma da metri 10 metri 11 metri 12 metri 12 metri 14 metri 15 metri 16 metri 13 metri 14 metri 15 metri 15 metri 15 metri 16 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 metri Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.